Avevo 18 anni quando ho indossato per la prima volta i tacchi in una trasmissione televisiva sul canale di MTV. È stata un'esperienza bellissima perché proprio quell'anno dovevo fare gli esami di maturità e me ne andai da scuola proprio perché il mio obiettivo era poter fare la trasmissione televisiva e presentarmi il mese di giugno direttamente nella mia classe per fare gli esami di maturità dopo mesi che ero appunto stata in questa trasmissione ed è stato un ricordo e un inizio diciamo di queste avventure che non dimenticherò mai. Quando ho iniziato non c'era nessuno che me lo ha insegnato. Nelle scuole di danza non si insegnava questa danza e quindi con il passare del tempo, quasi 15 anni, ho cercato in base alle mie esperienze di riportare e di creare un nuovo stile, una nuova tecnica cercando appunto di trasmettere tutte le mie esperienze. Spero di aiutare anche te a fare della tua passione il tuo futuro. Sono Elenia Battista e vi aspetto a Ilse Requested.